Siamo andando in piazza Verdan vicino al corso Buenos Aires per andare a visitare l'albergo di Urno Venezia, grazie a Instagram Milano, Iger's Milano e il FAI. L'albergo è stato costruito tra 1923 e 1925 e inaugurato poi a gennaio del 26 però è abbandonato dal 2005. È diviso in due parti, la parte delle terme con i bagni privati e la parte più commerciale con il barbiere, la manicure e i vari negozi che sono rimasti fino all'ultimo. Grazie. 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 Grazie.